Noi Cuore Termenago Innova è un'associazione di volontariato che è nata quest'anno e andrà ad accompagnare in tutto quelle che sono le attività di volontariato di collaborazione e inclusione della popolazione di Termenago. Il PNRR ci dà modo di avere la sala dei multi servizi per non solo eventi ludico ricreativi ma anche quello che la comunità ha bisogno la banca del tempo piuttosto che l'aula ricreativa per compiti pomeriggi dei bambini e tutte quelle attività diciamo che vanno appunto a creare comunità che è lo scopo principale della nostra associazione a creare un'associazione e pierna rara.